Ciao a tutti da Federico di Seconda Vita. Lorina Isabel Irene McKennett nasce nella piccola cittadina canadese di Morden, nella collinosa regione di Manitoba, a confine con il Nord Dakota statunitense. La ridente cittadina canadese ospita da generazioni immigrati dall'Irlanda, dalla Scozia, dalla Germania e dall'Islanda, come la famiglia di origine di Lorina. Mezzosangue scoto irlandese, Lorina è figlia di un commerciante di bestiame e di un'infermiera. Della sua famiglia di origine si sa che, in cerca di fortuna, emigra dalla verde Irlanda nel lontano 1830 per approdare oltreoceano, nelle praterie di Winnipeg, vicino alla sua città natale. Lunghi capelli rossi, pelle bianca e lentiggini, che ne rivelano l'aspetto nord-europeo, la giovane Lorina cresce in una grande fattoria, uno stile di vita immerso nella natura che non abbandonerà nemmeno in età adulta. A tutt'oggi la cantautrice canadese vive in un ranch nell'Ontario. Lorina ha dato lei stessa una descrizione della sua città natale. Era una comunità molto modesta, tutte famiglie di immigrati. La sopravvivenza era l'occupazione giornaliera e l'esposizione culturale limitata. È in questa piccola cittadina che Lorina sviluppa la sua passione per la musica e la danza, in parte influenzata dalle tradizioni musicali della locale comunità cristiana anabattista, di origine olandese, dei Mennoniti. Forse sarebbe diventata una ballerina se a cinque anni l'automobile dei genitori non avesse avuto un incidente. La rottura di entrambe le gambe in seguito all'incidente stesso spinge sua nonna a spolverare il pianoforte di famiglia e a farle prendere lezioni di canto e pianoforte classico, che dureranno rispettivamente per i successivi cinque e dieci anni. In questo periodo di formazione Lorina canta nel coro della città e suona l'organo nella chiesa locale. Completati gli studi obbligatori, nel 1976 Lorina decide di iscriversi alla facoltà di veterinaria della locale università di Winnipeg, realizzando uno dei suoi sogni di bambina. Agli studi affianca la sua costante passione per la musica, che la porta a cantare nei club locali e a recitare in piccoli produzioni di spettacoli originari di Broadway. È qui, tra i coffee house e i piccoli teatri di provincia, che Lorina si avvicina alla musica folk, scoprendo altri grandi artisti canadesi quali Ni Young, Johnny Mitchen e Gordon Lightfoot. A Winnipeg ha anche l'occasione di partecipare al locale Winnipeg Folk Festival. La sua carriera professionale di fatto inizia nel 1978, quando vince la competizione musicale Du Maurier Search for Talent, che la porta nello stesso anno a rappresentare il suo paese all'UNESCO a Parigi. Nel 1980 Lorina decide di interrompere definitivamente i suoi studi di veterinaria a vantaggio della musica, trasferendosi a Stratford in Ontario, sede del famoso festival canadese dedicato a Shakespeare. È qui che si cristallizza la sua passione per la musica celtica, un'esperienza che le cambierà la vita, anche se il suo percorso formativo si completerà solamente qualche anno dopo. Sono stata attratta dalle incisioni dell'arpa celtica di Alan Stivel, un'artista della Bretagna, e dalle immagini evocate dallo strumento, che mi hanno fatto navigare in un passato lontano fino a commuovermi, dichiarerà la stessa artista. All'inizio dello stesso anno Lorina acquista anche un'arpa celtica ed inizia l'esplorazione personale delle antiche sonorità della sua terra d'origine. Sull'arpa la McKennie te dichiara «è uno strumento visionario, versatile, e possiede un suono poetico. Un suono gentile, ma anche ricco di articolazioni. Ti permette di passare da toni molto sottili a toni molto drammatici. Avevo studiato pianoforte classico per dieci anni e canto classico per cinque. Conoscevo le scale e gli arpeggi, ed ero perciò in grado di adattarli all'arpa». Per quattro anni, dal 1980 al 1984, collabora con il Festival di Stratford nel molteplice ruolo di attrice, compositrice e cantante. Al 1982 invece risale il suo primo viaggio in Irlanda, alla scoperta delle sue origini e della sua gente. Galvanizzata da questa esperienza, al ritorno Lorina inizia a fissare il suo fervore celtico, mettendo in musica un poema di William Butler Yeats, The Stolen Child. Yeats, studioso di mitologia irlandese e appassionato raccoglitore di racconti e leggende, in Stolen Child mette in versi i rapimenti ad opera delle fate, credenze di un tempo antico nel tentativo di razionalizzare il dolore per una morte sconvolgente, ossia quella che coglie la vita ancora in boccio. Anticamente si trovava consolazione a questo dispiacere nel pensare che le fate avessero sottratto quella giovane vita a un triste destino, secondo l'antica credenza che solo chi è caro agli dèi muore giovane. Gli stessi racconti, fiabe e ballate della tradizione celtica sono molto ricchi di rapimenti fatati. Nel 1985, quando non viene richiamata a collaborare con il Festival di Stratford, la cantautrice canadese decide di dare un'ennesima svolta alla sua vita. Anziché tornare a lavorare in teatro, continua solo come artista di strada e compositrice occasionale di musiche per produzioni locali. Mi piace molto il contesto sociale dell'artista di strada, è il motivo ispiratore della musica nelle culture più lontane. L'artista di strada dà voce ai senza voce, come dichiarerà. Quando i passanti cominciano a fermarsi copiosi e a chiedere una registrazione di una musica tanto celestiale, Lorina si fa lasciare gli indirizzi, nell'intenzione di contattare successivamente i suoi crescenti fan. Ispirata dal libro How to make and sell your own recording, scritto da un'altra donna, Diane Sward Rappaport, Lorina decide che i tempi sono maturi per provare a registrare un album autoprodotto di musica tradizionale celtica, ovviamente senza sapere dove avrebbe potuto portarla. A inizio da questo punto anche la versione imprenditrice di successo della biografia di Lorina. Presi in prestito i soldi messi a disposizione dalla sua famiglia per consentirle di completare gli studi di veterinaria, nel luglio dello stesso 1985, Lorina registra in una settimana i suoi primi nove brani. La particolare sala di registrazione scelta è un granaio circondato dai girasoli nel sud dell'Ontario. Nasce così il suo primo album demo Elemental. All'inizio registrai 30 nastri, la cui metà la regalai ad amici e parenti. Con il resto non sapevo neanche cosa farmene. Andai a suonare a Toronto al mercato di St. Lawrence come musicista di strada. Mi sedevo all'ingresso di un gigantesco mercato, suonavo e cantavo i miei pezzi. Durante le pause mi fermavo a parlare con i passanti ed è stato solo in seguito che ho cominciato a vendere i miei nastri, che poi si sono evoluti in cd, finché guadagnai al punto da riuscire a fondare la mia casa discografica. Lurina inizia a rifiutare le offerte di tutte le major che le facevano la corte e contemporaneamente alla crescita delle vendite casalinghe decide di dar vita alla sua piccola etichetta privata, la Queen Road, che ancora oggi è l'unica autorizzata a pubblicare la sua musica. La scelta si rivelerà azzeccata perché darà piena autonomia artistica alla McKennit, che raggiungerà, solo con le sue forze e scendendo a pochi compromessi, significativi traguardi commerciali. Sebbene Elemental sia un'opera palesemente acerba, soprattutto a confronto con tutte le altre produzioni successive, fin dalle prime note risalta l'eleganza e la spiritualità della musica di Lorina, nonché la sua capacità di aggiornare i traditional irlandesi in chiave moderna, senza scadere nella più dozzinale New Age da bancarella. L'album è per lo più una raccolta di pezzi folk tradizionali cui si aggiungono due sole composizioni musicali inedite sui testi di William Butler Yeats e William Blake. Rispettivamente la solenne ode di Stolen Child, di cui si è già parlato, e il brano finale Lullaby. Per assaggiare anche l'incisione della versione rimasterizzata dell'album in CD, potete ascoltare un estratto di Lullaby nel video di anteprima. L'audio è stato registrato in ambiente con un recorder digitale Tascam DR07MK2, sull'impianto Hi-Fi che vi presento nel link in alto a destra ed in descrizione. Quello che emerge chiaramente dall'ascolto dell'album è l'eccezionalità assoluta della voce di Lorina, una voce già matura, che pizzica le corde dell'animo dell'ascoltatore con la stessa ispirata intensità con cui la McKennett pizzica le corde della sua inseparabile arpa. Così commenterà la recensione all'album di Spazio Rock. Nonostante sia una produzione realizzata con l'aiuto di parenti ed amici, tra cui il noto attore e musicista folk Cedric Smith, che presta la sua voce nella malinconica Carrig Fergus, non vi sia un tema conduttore forte e siano assenti tutte le referenze storiche precise a cui Lorina ci abituerà con i suoi successivi album, Elemental rimane comunque un primo passo importante di un artista di rara grandezza. Come scrive la stessa Lorina nelle note di copertina al remaster dell'album del 2004, non c'è nessuna mappa qui, nessuna destinazione. Il viaggio si alimenta solo di un'insaziabile curiosità e passione per la musica, le persone e la storia. Solo un viaggio, spero che lo vogliate percorrere. L'album Demo Elemental ha venduto ad oggi meno di centomila copie, tante quante le spighe di grano della copertina. Anche per questa video recensione è tutto, ciao e grazie da Federico di Seconda Vita.